Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Melinta, nuovo giocatore del Petrolo, lascia il Palermo. Intanto ti chiedo quali sono le tue sensazioni da nuovo giocatore del Petrolo. Io sono contento perché ho fatto questo transfero. Spero di essere un anno buono per me. Spero di giocare e di fare bene quest'anno. E dopo vediamo che succede. Vai via soltanto in prestito? Magari la speranza è quella di tornare a Palermo. Sì, vado in prestito e come ti ho detto prima vediamo che succede dopo quest'anno. Se torno qua o vado in un'altra parte. Ti racconti come hai vissuto quest'ultimo anno un po' difficile della tua carriera? Sì, non un po' difficile. È stato un anno difficile, difficile. Ma in Palermo non posso dire che sono comportato male con me, sono comportato bene. Mi sono allenato con la squadra. Questa è stata la loro decisione di non giocare. Io mi sono allenato sereno ogni giorno. e adesso sono contento che vado a una squadra dove posso giocare. Forse però ci sei rimasto un po' male per certe dichiarazioni del presidente Zamparini. Forse è l'unica cosa negativa. No, ma lui è presidente. Lui è presidente di Palermo e può dire tutto quello che vuole. Pensi che Federico Balzaretti alla fine andrà via o pensi che resta? Non lo so. Per Palermo io dico che è meglio che rimani qua. Ma per lui penso che è meglio che va a Parigi. L'Italia per te non è un capitolo chiuso. Magari vuoi una rivincita. No, sì. Io spero dopo quest'anno di tornare a giocare in Italia. Mediagol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Grazie.